Buonasera, ieri l'aveva detto in conferenza stampo, l'Empoli sta bene, quando riparte può far male, era tutto quello che si aspettava. Le chiedo un'analisi, oltre che sulla partita, sull'atteggiamento della Juventus tra il primo e il secondo tempo, perché abbiamo visto due squadre completamente diverse. Prima cosa, una partita si gioca durante 95 minuti, è normale che sia nel primo tempo una squadra avere più energia. E sì, l'ho detto ieri, ribadisco, una squadra che sta bene, l'Empoli, una squadra che sa difendersi molto bene, anche delle volte invitando l'avversario a venire in attacco, per poi dopo ripartire, contraattaccando, creare difficoltà alle squadre avversari. Oggi alla fine abbiamo permesso uno evitabile, dove noi non dobbiamo concedere. Abbiamo creato poco, ma abbiamo creato, non abbiamo preso gol. È chiaro che il risultato oggi non è quello che volevamo. Veniamo qua, come tutte le partite, giochiamo per vincere, ma la strada che dobbiamo proseguire è quella lì. Continuare a giocare, continuare ad attaccare insieme, creare occasioni e avere questo equilibrio per non permettere a una squadra come l'Empoli oggi di, contraattaccando o creando poco, avere un vantaggio. Abbiamo visto tante facce nuove e quindi i meccanismi di gioco per trovarli, insomma, è sempre complicato. Poi abbiamo visto addirittura quattro cambi contemporaneamente al secondo tempo. Da chi è subentrato si aspettava qualcosa in più? Ma si troveranno bene tra di loro perché sono grandi giocatori. I grandi giocatori già in allenamento, ma anche fuori dal campo, con poco tempo riescono a capire cosa vuole uno, cosa non vuole uno, come comportarsi dentro e fuori dal campo, creare un gruppo solido. I quattro che sono entrati sono entrati per dare un po' più di freschezza alla squadra, con gli stessi compiti che avevano quelli che stavano dentro. Non abbiamo cambiato niente nella parte tattica, sino a dare continuità a quello che si stava facendo, perché si stava facendo bene arrivando insieme. Ripeto, sicuramente questi grandi giocatori che abbiamo insieme dentro al campo cresceranno, miglioreranno individualmente, ma soprattutto sono sicuro che collettivamente. Buonasera, mister. Una Juventus, dal mio punto di vista, oggi sotto tonno, saranno Juventus molto diversi a martedì? Oggi è una partita, martedì è una partita completamente diversa, è la prima cosa. Non sono d'accordo con lei che era sotto tono, ho visto la mia squadra giocando nel modo che doveva giocare oggi, contro una squadra, ripeto, che sta molto bene come l'Empoli. E adesso continuare. Lasciamo nel passato già questa partita di oggi, dare continuità alle cose che si è fatto bene e migliorare tante altre che possiamo farlo e pensare alla partita di martedì. Buonasera, mister. Samoltafest e Sportpaper. Volevo chiederle un giudizio sulla prestazione di Pier Calulu. È la prima partita che ha fatto da titolare. Si è parlato molto di questo giocatore, c'era anche chi metteva in dubbio addirittura la sua integrità fisica e oggi ha giocato addirittura tutta la partita. Grazie. Non c'è nessun dubbio sulla integrità fisica del ragazzo, che sta molto bene. Si allena sempre. Oggi ha fatto un'ottima partita. Con il poco tempo che si è inserito nel gruppo ha fatto un'ottima partita. Capisce subito perché ha già fatto questo ruolo nel Milan e l'ho visto molto bene oggi in partita. recuperarlo e pensare a recuperare tutto il gruppo, le squadre, preparare bene per la prossima martedì. Grazie. Ciao, ciao mister. Sono Mario Gaudio, di Radio Onda Cero di Spagna. Le faccio la domanda in italiano, che se può rispondere in italiano, poi al fine se può fare un brevissimo rossoconto anche in spagnolo per la gente di Spagna che anche le può sentire in spagnolo. Le chiedo quanto è influito che sia la prima partita dei titolari di tanti interpreti al centro campo. Sei contento con questa prima partita con me, tutti insieme in questa nuova Juventus, diciamo, al centro campo? Sì, sono contento. Torno a dire quello che ho detto prima. Questi grandi giocatori, quando si mettono insieme, sono convinto che velocemente riescono a capire prima cosa come dobbiamo giocare come gruppo, come squadra, però poi mettendo la loro caratteristica, la loro qualità, sia fisica, tecnica, mentale, a beneficio del gruppo, che il gruppo possa funzionare, che la squadra possa funzionare, ognuno nel suo ruolo. Adesso è parlato di centrocampisti, oggi Manu, Douglas e Kefren e Coppa hanno fatto bene, quelli che sono entrati sono entrati bene. Abbiamo la fortuna di avere tanti giocatori forti e capire il momento loro, capire le partite che andremo ad affrontare, capire il momento della nostra squadra e cercare di fare le scelte giuste per il bene della squadra. Lo che hai explicato, ma o meno, di centrocampisti di nuovo, quando è stato il primo partito, di intenzione di migliorare? migliorare, si può migliorare sempre lo che ho detto è che tenendo questi centrocampisti di qualità centrocampisti fuerti juntos antes, conoscendo lo che vogliamo vedere jugando in modo colectivo individualmente metteranno sicuramente la qualità che hanno, cada uno di loro con caratteristica differente, permettendo la qualità al beneficio del gruppo per levantare il valore della squadra dell'equipo, sia individualmente ma soprattutto colectivamente, perché questo si gioca in 11 giocatori, 11 contro 11 e gli 11 che sono meglio in campo, sia defensivamente o offensivamente, hanno un vantaggio con l'equipo avversario Buonasera mister, Paolo Ottavio di Fantapaz un giudizio sulla prova offensiva di Vlaovic che a volte è sembrato molto isolato lì davanti, perché su alcuni cross sembrava l'unico in area di rigore e sono mancati gli inserimenti dei trequartisti Siamo arrivati poco a fare il cross che dobbiamo fare perché un conto è fare il cross da dietro e un conto è arrivare in una zona pericolosa per fare il cross è chiaro che oggi contro una squadra che si difende e si difende una linea di 5 giocatori non è facile arrivare a quelle posizioni lì abbiamo avuto difficoltà oggi ad arrivare però sicuramente quando arriviamo in quel momento lì non solo Dusan deve riempire l'area di rigore non solo Dusan deve attaccare l'area di rigore sino tanti altri il problema è che oggi abbiamo avuto difficoltà ad arrivare in quella zona pericolosa per fare il cross e il cross che da dove abbiamo fatto e gli altri giocatori non hanno nemmeno il tempo di arrivare nell'area di rigore dell'avversaria siamo arrivati più sugli inserimenti interni o sulla profondità dove loro delle volte hanno lasciato il nostro attaccante ha creato però sicuramente sui lati dobbiamo arrivare anche giocando con una squadra difensiva che giocano a 5 e arrivare a alimentare non solo il nostro attaccante ma se no agli altri che arrivano da dietro Buonasera Minister Filippo Cornacchia alla Gazzetta dello Sport ti volevo chiedere questa cosa qua nelle prime due partite avete segnato in tutte e due tre gol e tre gol adesso in due partite zero in tutte e due è solo una coincidenza cos'è cambiato anche perché in mezzo c'era stata la Roma che uno potrebbe dire anche molto differenza di Rosa rispetto alle prime due l'Empoli magari più vicina alle prime due squadre che avete affrontato e legato a questa ti volevo chiedere in Champions si dice sempre che è molto importante segnare sei preoccupato per questo diciamo tra virgolette mal di gol in vista della Champions ogni partita come dico sempre è una partita diversa le due prime che abbiamo affrontato già lì sono state partite diverse molto diverse una con l'altra vuol dire coincidenza poco le altre partite la dopo con la Roma è stata un'altra partita completamente diversa oggi è stata un'altra partita completamente diversa e martedì sarà sicuramente una partita diversa con una squadra che gioca bene a calcio una squadra che rischia perché si apre attacca e noi essere bravi a controllare il gioco controllare il gioco giocando in casa controllare il gioco non permettere a questa squadra di sentirsi comoda che quando ha la palla e viene ad attaccare con 5-6 giocatori e noi essere capaci di avere noi la palla e andare insieme ad attaccare il PSV che è una buonissima squadra però vedo coincidenza poco perché ripeto in ogni partita è una storia completamente diversa siccome ogni partita è una storia diversa non c'entra niente vedremo la prossima come affronteremo il PSV come faremo in modo di ripeto di non permettere all'avversaria controllare il gioco e sentirsi comodo nel campo come a loro gli piace e portare sicuramente cercare di portare la partita dalla nostra parte Lamba Repubblica buonasera so già chi mi risponderà di no ma glielo chiedo lo stesso perché 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 sai già che no però lo chiedo lo stesso perché uno chiede per sapere in questa squadra ci sono pochi giocatori che hanno già giocato la Champions può essere che il pensiero di debuttare martedì in questa competizione in qualche modo abbia condizionato qualcuno perché effettivamente la cosa è hai ragione ti do la ragione no no ti do la ragione grazie grazie ciao Giovanni guarda la Sky Sport ti chiedo intanto una tua opinione sulla tua prestazione perché era la prima da titolare si è parlato tanto di te in questo in questo mercato insomma hai giocato tutta la partita hai fatto una bella chiusura all'inizio su Giasi ti chiedo una tua opinione sulla tua prestazione buonasera sulla mia prestazione così così a caldo ho avuto buona sensazione sul campo sulla cosa che mi chiedeva il mister anche con i compagni vuol dire che il sentimento personale è bene ma poi è vero che con questo risultato un po' di cosa un po' negativa per quello che riguarda invece la prestazione della Juventus oggi c'erano tanti volti nuovi del mercato uno eri tu ce n'erano tanti altri a Cook Miners a Nico eccetera ci aspettavamo qualcosina in più mancano ancora i meccanismi di gioco è una questione fisica visto che molti rientrano dalle nazionali o ti aspettavi qualcosa in più da parte della tua squadra per quello che riguarda la prestazione io ti aspettavi aspettavi più tu aspettavi qualcosa in più io sicuramente l'aspettavo qualcosa di più volevo capire da te no io a livello personalmente quanto non c'è la vittoria è vero che da fuori anche dal campo può sembrare che manca qualcosa poi è un precorso siamo ancora all'inizio siamo ancora in settembre e in settembre e lì sappiamo anche da per tante squadre una partita difficile da vincere non è una passeggiata lì abbiamo fatto per me il massimo per fare il gol poi oggi non è arrivato ma siamo sulla buona strada poi con il tempo sarà per me e per te spero meglio ciao ciao pier siamo il sport paper volevo chiederti oltre come giudichi questa tua prestazione come ti sei sentito fisicamente no c'erano tante persone che avevano tanti dubbi sulla tua integrità fisica per la stagione scorsa che hai avuto al Milan oggi hai giocato 90 minuti secondo me hai fatto un'egregia prestazione e volevo chiederti proprio te come ti sei sentito anche a livello fisico e cosa ti senti di rispondere a chi ha dubbi sulle tue prestazioni fisiche grazie già io a livello personale sono molto concentrato su di me le cose che possono girare intorno e anche di più in italiano non guardo molto ma poi a livello personale mi sono sentito bene è vero che su queste tre settimane che sono a Torino lavoriamo forte lavoriamo bene voglio dire che oggi anche con 90 minuti mi sono sentito al mio agio fisicamente questa preparazione mi ha aiutato tanto ultima domanda prego salve per Mario Vado di Radio Onda Zero volevo chiederti come ti ha gomota nelle distanze corte come allenatore ti parla molto è molto intenso se puoi parlare di lui allora come il mister no il mister da quando già l'ho avuto già prima al telefono prima di venire lì e adesso che sono lì è la stessa persona una persona onesta si vede che è già da calciatore che era giocatore prima che aiuta tanto dà i buoni consigli poi lui lascia tanto spazio a noi per giocare al calcio che piacciono a tutti ma direi che io dal mio punto di vista molto positivo poi è lui che fa i scelzi allora sempre anche positivo grazie mille grazie a tutti buonasera grazie a tutti